Migliaia di pazienti in provincia di Teramo affetti da gravissime disabilità neuromotorie, spesso permanenti, non possono accedere prima di 12 o 24 mesi al servizio di riabilitazione convenzionata per mancanza di fondi necessari. Questo crea disagi terribili ai malati e provoca un'emorragia economica all'asl teramana causata dalla mobilità passiva. È il grido di dolore delle strutture riabilitative convenzionate del territorio, Archer, Aris, Anfas, San Stefano e Piccola Opera Caritas, che chiedono ai futuri amministratori regionali di aumentare il budget dedicato a questo delicato settore. La riabilitazione neuromotoria tratta pazienti che sono affetti da patologie neurodegenerative come sclerosi multipla, SLAM, Parkinson, Alzheimer, patologie su base congenita, disturbi dell'età evolutiva, pazienti affetti da ictus in fase post-acuta, pazienti che abbiano problematiche osti articolari sia di tipo infarmatorio che neoplastico, pazienti che sono affetti da patologie cardiache recenti. E che stanno soffrendo moltissimo perché ci sono dei disagi? Assolutamente, i disagi sono legati al fatto che le strutture che operano sul territorio della regione Abruzzo non possono erogare prestazioni ambulatoriali e domiciliari sulla base dei budget assegnati o meglio, una volta che i pazienti sono autorizzati dalle unità di valutazione multidimensionali delle ASL territorialmente competenti, non possono accedere al servizio proprio per i tagli che sono stati apportati al settore. Che cosa succede loro? Solo alcuni fortunati possono ovviamente attivare la procedura, vedersi quindi riconosciuti i loro diritti. Gli altri, alcuni, vanno ovviamente nelle marche generando una mobilità passiva che nella sola ASL di Teramo è valutata sugli 8 milioni e mezzo di euro. E allora voi venerdì farete questo grande convegno per chiedere cosa e a chi? Per chiedere ai politici di risolvere la problematica implementando i budget delle strutture operanti sulla base delle loro capacità produttive. Chiediamo anche che una parte delle risorse economico-finanziarie che vengono investite nella mobilità passiva siano trattenute sul territorio.